Ciao creatura Io sono Vecati Splendenti e benvenuta o bentornata nel regno di Cusa ASMR questa sera andiamo ad aprire uno, due due uvetti e questo credo non abbia sorpresa sono comunque uvetti di cioccolato a latte e i pini assortiti mi sono stati tutti regalati da persone diverse e vorrei aprirli con te qui dice penso che avessi comunque un'idea sensata penso, non lo so dipende da dove è stato acquistato magari è stato acquistato in un'officina non lo so mi fa ridere comunque qui dice sotto c'è scritto sono scritti gli ingredienti uvetti di cioccolato a latte e i pini assortiti ingredienti cioccolato a latte finissimo zucchero a latte interno con polvere burro di cacao ma io voglio sapere che che ripieni ci sono perché dice ripieni assortiti ma non lo specifico eh sono a sorpresa forse i ripieni qui dalla confezione vedo che l'involucro degli uvetti ha tre colori diversi quindi blu verde e rosa andrei prima ad aprire questo e poi gli altri due con la sorpresa sono come uvetti kinder dalla grandessa mi pare sono 35 grammi hai due uvetti dentro uno per govore forse tre uvetti ok all'interno si presenta mezzo arancione e mezzo verde come aiuto come si apre non 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 ho capito penso che si stracca qui no scherzavo aspetta sì 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 ho capito come devo solo riuscirci ok 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 c'è uno che ha un po' di unghie ok wow bello ce n'è uno solo verde due blu e due no sì perché uno solo verde io sto girando il video al mattino farò colazione con queste delizie sì due rosa due azzurri blu e uno solo verde il più prelibato c'è scritto lì il gusto allora qui c'è scritto solo cacao qui c'è scritto nocciola e qui c'è scritto mmm non si riesce a capire cosa c'è scritto ah crema no allora mi sa che io assaggio prima quello rosa perché crema mi fa più voglia questo è tutto cioccolato immagino questo è la nocciola non so se le nocciole dentro questo nocciola e questa è la crema quindi vado di crema la carta stagnola sono bellissimo wow ma è anche decorato all'interno non so se si vede ma tipo la decorazione incisa si vede che è separato in due parti buona buona la crema al latte all'interno molto buona assaggio quello verde con la confessione verde e la nocciola so da oddio come si chiama non mi viene la parola ma è quello lo scriverò qui da qualche parte buonissimo sembra che all'interno ci sia proprio quel tipo di cioccolatino andiamo ad assaggiare l'ultimo l'ultimo è al cacao è buonissimo anche questo sono un po' di cacao amaro buono 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 mi sono piaciuti tutti tanto buoni poi andiamo ad aprire questo uovo di cioccolato al latte con sorpresa non so non so dove siano stati acquistati c'era solo questo piccolo nastro adesivo che chiudeva tutto e non chiudeva neanche molto bene è una recensione questa no non è una recensione che bello è una versione un po' più grande del Kinder Sorpresa bello anche in integro perché mi erano caduti indovina chi li aveva buttati per terra esatto proprio Sam li apro qui dentro perché non voglio appoggiarli sulla tovalla e c'è anche il suo pratico bicchierino è carinissimo questo bicchierino che sarebbe piedistallo ecco risposto la carta non vuole essere vero andiamo ad aprirla è appiccicato è appiccicato ecco c'è tipo proprio un uvetto Kinder o un uvetto di quelli per bambini ecco cosa cacchio ho trovato dentro una cosa da costruire wow quante emozioni aspetta è una cosa inutilissima speravo di trovare un portachiave una gommina gommina per chi vede i video di Yolanda è alvidanzato so di cosa sto parlando perché io non ho trovato una gommina questa non è una gommina ecco una nostra cazone speriamo non si perde speriamo perché già ci tengo a tonta l'anno scorso invece ho trovato una macchinina nera quale la Smart che poi mi sono comprata e avevo detto è un segno del destino questa sarà l'auto che mi comprerò ed è successo davvero perché noi non siamo neanche un po' strighe noi neanche un po' ok mettiamo questo qui che è questa bella carta arcobaleno ma pastello poi cercherò anche un modo per riciclare queste carte che sicuramente c'è qui abbiamo il bicchierino piedistallo sul bianco trasparente qui è ratturato che anche questi secondo me si possono riciclare in qualche modo sono sicura ok andiamo ad aprire questo uovo ha subito più danni vedo adesso lo andiamo anche a assaggiare anche verrà più difficile da aprire ah io so e allora questo lo rompiamo eccolo qua c'è lo stesso regalo vediamo oh no aspetta che schifo vibra è un altro un altro velivolo ma guarda che schifo vibra volevo la combina io eh vabbè non va proprio per bambini con tutti questi piccoli pezzi che posso inghiottire ok ok assaggiamo il cioccolato non è male ma sa esattamente dal cioccolato dentro ai calendari dell'avvento ecco il cioccolato lì che non è cattivo alla fine però gli ovetti erano molto più buoni vabbè spero che questo video ti abbia fatto rilassare e io ti auguro di passare una bellissima notte e anche mi piacerebbe sapere se hai già aperto l'uovo quale uovo hai aperto e cosa hai trovato all'interno come vedi io sono stato molto fortunato ma se avessi sicuramente se avessi comprato per me stessa un uovo degno cioè non che questi non siano degni però saranno uova da un euro ecco però sono carini dai anche da ricevere perché alla fine ci si mangia la cioccolata però appunto non so quale avrei preso tra quelli che c'erano forse quello della casa di carta probabilmente però probabilmente aspetterò che finisca la pasqua e lo compro poi così mi costa tipo tre volte meno e penso che prenderò quello della casa di carta se lo trovo con l'offerta oppure non lo so fammi sapere nei commenti quale vale la pena acquistare quest'anno io tempo fa avevo preso quello della dei quartieri della galassia e ho trovato dentro il portachiavi che sto utilizzando per le chiavi della macchina c'è tutto torna tutto ha un senso ormai e niente io veramente adesso ti auguro buonanotte buon relax ciao creatura